e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come avrete letto dal titolo, sono su StambleGuys con Sofia. Ciao! E oggi farà anche una o due partite. Me, me, prima lei, poi io. No, non lo so. Forse a fine video fai una. Quindi guardate tutto il video perché farà due, perché forse fa due partite. Adesso, Sofia, che colore non devo toccare? Non devi toccare l'arancione. Ma l'arancione non c'è. Grazie mille, Sofia. Quello è un giallo. Non devi toccare il giallo. No, non vale, me l'hai detto dopo. Non vale. Questo non vale perché me l'ha detto dopo. Ok, io mi aspettavo che mi dicevi non toccare l'azzurro, però giallo, buon auguro. Non posso toccare invece l'azzurro. No, 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 ormai non devo toccare il giallo. In realtà non devo toccare l'arancione, quindi il giallo lo posso toccare. Perché, Sofia, io il giallo lo posso toccare. Perché vale solo il primo che dici. Non vale il secondo, il terzo e il quarto. Come vedete questa ringhiera è gialla. Quindi la posso toccare. Infatti non devi toccare il nuovo. Sofia, no, vedi che non le fai più queste sfide. Non mi sono manco qualificata per colpa tua. Allora, dai, abbiamo il nostro stumble pass. Facciamo un giro, dai. Speriamo una molto bella. Gamer Gina, la dobbiamo mettere. Comunque, per chi non mi crede che ho la leggendaria, ce l'ho. Per chi non mi crede. Se non mi piace. Questa, questa, che è bellissima. Allora, Sofia, che colore non devo toccare? No, no il blu. No il blu? No. Ok. Oh, qua non c'è il blu. Che bello. Non devi toccare... Beh. Sofia, perfetto. Io non toccherò il meraviglioso blu. No, non devi toccare... Quello... Quelli... Gialli. Qua sono tanti bot. Molti sono bot. Sì, ho detto non toccare quello. Quale? No, Sofia! Oh! Hai detto tu all'inizio il blu. Hai detto il blu. Bene, io il blu non lo sto toccando. Che non c'è il blu. Sì. Ci pensavi prima a dire un altro colore. Sofia, perché tu non vuoi vedere la mappa? Non puoi cambiare il colore. Allora, Sofia, il prossimo colore che non devo toccare, qual è? Non devi toccare il giallo. Il giallo? Ok. Il giallo c'è in ogni mappa. Però non lo devi toccare. Come questo. Va bene, amore. Allora, no, hai toccato. Ma questo non vale, Sofia. Questo non vale. Perché? Perché? Cioè, non vale perché mica inizia... Beh, c'è. Molti youtuber lo fanno valere. Io no, perché mica questa è una partita. Cos'è? Questo è un... Non lo so. Vediamo quale mappa mi capita. Speriamo una con poco giallo. Speriamo una con poco giallo. E in questo giallo non ce n'è. E non devi toccare l'azzurro. L'azzurro è l'acqua. Per toccare l'azzurro devo morire. Sofia, mi dispiace. Sì. Ma ho vinto perché il giallo non c'è. Infatti, infatti non ho detto il giallo. Sì, hai detto il giallo. Piccola bugiardina. Non c'è il giallo. Per pochissimo non sono morta, ragazzi. Se le guardano. Si rompono pure quelli rossi. È un po' difficile, però si rompono. Se le guardano. La bomba è lì. Sofia, no, che schifo. Poveretta, quella tizia è morta. Ma quale tizia? Non lo so. Mi sono qualificata. E poi penso bene. Allora, che altro colore non posso toccare? Il rosso. Ok. Vi immaginate, c'è l'Avaland. Cioè, in realtà il giallo c'era. No, no, il giallo non c'era. Però se dicevo azzurro non potevo manco morire. Non valgono i colori nella skin, nelle skin, nei colori della skin mia, nei colori della skin degli altri giocatori. Che colore avevi detto? È rosa? Sì. Oh, mamma mia. C'è pochissimo rosa. C'è il rosa solo là. Quindi è fattibilissimo. Infatti non lo devi toccare. Ma è fattibilissimo. Grazie mille, Sofie. Però non lo devi toccare. No, perché se no devo, appena avrò le gemme, dovrò scioppare, vabbè, comprarmi un giro fortunato, oppure dovrò fare una penitenza decisa da Sofia. E devi fare una penitenza. Ok, l'osa? No, 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 mannaggia, non ho perso la corona. No, 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 no. Devi fare una penitenza. Io so un trucchetto per ottenere 500 gemme, però voglio vedere con voi se riesco a vederlo. Serve una mappa specifica. Cosa vuoi fare? A me mi puzza di bugia. Sofie, a che colore non devo toccare? Il verde. Il verde. Sì, ormai l'hai detto, il verde. Sì. A me non piace il verde, perfetto. Però se il verde è acqua mi piace. No. C'è il verde è acqua. No, c'è il verde è normale. Poi ci sono tantissime persone che hanno la schiena verde, ma non vale. Quindi io dovrei toccare. No. Allora, ragazzi, non devo toccare manco le cose rosse, perché quella è la rossa, i fili sono verdi. E se le tocco, tocco il filo verde. Quindi automaticamente perdo la challenge. Tocchi. Beh. No. So, per toccare il verde. Beh. Sono morta e non ho toccato il verde. Per pochissimo non l'ho ritaccato. Sarebbe male che non tocchi questo che verde. Ma c'entra solo nel gioco. Piccolina. Dai che mi qualifico. Ricordami. Sofì, adesso che colore non devo toccare? Questo è il colore giallo. Il colore giallo? Va bene. Invece il rosso. Il rosso? Sì. Ok. Sì, non c'è il rosso. È vero, mi sono sbagliato. No, c'è un po' di rosso, perché è il rossastro? Non l'ho toccato. No, ma quella è fucsia. Infatti fucsia lo vuoi toppare. Sì. Ma... Ok, usiamo un paio di trick. Trick. Ma anche... È per usare i trick. Io ho i trick. Puoi toccare anche il bluetooth. Certo, posso toccare tutti i colori tranne... Il rosso, mannaggia, il rosso. Il rosso, mannaggia, yay, trick. Puoi toccare anche il giallo. Basta che non tocchi il giallo. No, il giallo lo posso toccare. Ah, è vero. Basta che non tocchi il rosso. Sono sbagliato. Ma se non toccare il rosso. Ma quella è fucsia. Ah. Se non tocchi... Uish! Fium, mi sono qualificata! Adesso che colore non posso toccare? Per la corona... Non posso toccare il giallo. Un'altra volta! Oh, è fissata col giallo. Ma il tuo colore preferito qual è? Il rosa. Si vede, la mogliettina è rosa. E poi non devi toccare il mio colore preferito. Ok, spero che trovi una mappa in cui non c'è il rosa! Non c'è il rosa! Non devi toccare invece il roso. Sofia, no! Ormai hai detto il rosa. No! Mi ha aiutato un sacco quella palla di fuoco! Perché? No, ma io ho un bambino. Perché la palla di fuoco mi ha agevolata. Io non mi scarico. Scarica, di amore. Io non scarica. Sì, certo. Che sei un telefono? Io sono scarica. E quindi mi devi ricaricare. Sì, ora non posso caricarti. Ragazzi, io ho dei seri problemi con questa mappa. È impossibile per me. E per me no. Tu non ci giochi! Oggi però, come ho detto all'inizio del video, farà la sua prima... Partita! Però basta che non perdo. E Sofia, infatti, è la cosa più probabile del mondo. Che ho paura che... Già c'è... Cioè non voglio morire. Cioè voglio fare 13 partite io. No, una ne farai. No, due. Una. Due! Una. Due! Anziché te ne faccio fare una con il mio tablet. Però mi dà scegliere... No! Sono morta! Dai, Sere, tocca a me! No. Ok. Niente, non ce l'ho fatta. Tu fai l'ultima partita prima... Dai, adesso tocca a Sofia a fare una piccola partita. No, non è grande partita. Forza, giocalo. No, non vuole essere questa. Sofia, questa usi. Tu vuoi toccare tutti i colori perché è la tua prima partita. Parla un po' di cosa stai facendo. Sto giocando a questo. Che mappa ti è capitata? Una difficile. Si chiama Spin Go Round. Round. Perché non so leggere? Devi andare avanti con questo. Con questo. E poi salti con la freccetta. Aspetta, non capisco. Devi andare dall'altro lato. Non capisco. Come sto combinando? Ah, guarda, se non lo sai tu... Ti aiuto. Niente, perdi. Perdi in serenità. Mi lasci in base. Ma sto facendo. Non scendere solo. Cioè, Sofia non sta scendendo solo. Sei tu che lo stai muovendo. Niente, hai perso. Vabbè, adesso perciò di nuovo. Come promesso, una partidina. Sofia se l'è fatta. Adesso, per l'ultimo. Che colore non dovrò toccare? Il verde. Il verde. Come lo dici? Invece il rosso. Deciditi. Va bene, entrambi i colori. Non devo toccare né il verde né il rosso. Entrambi non devi toccare. Entrambi. Entrambi non li devi toccare. Entrambi, si dice no. Entrambi. Entrambi. Entrambi non li devi toccare. Va bene, ma... Nooo. Mannaggia, mi toccherà fare un... No, io adesso con me passo. Vabbè, ormai l'ho toccato. Quindi posso fare la partita in serenità. Ecco che mi aveva... Avevo detto che non dovevo... Ma sono spawnata nel verde. Quindi dovrò fare una penitenza? Sì, magari... Nooo. Andiamo, andiamo. Nel prossimo video farò una penitenza. Suodottemi. Ci vedo il prossimo video. Ciao.